Per implementare l'efficienza energetica è necessario rafforzare le politiche dei paesi e le strategie, è necessario fare training, è necessario fare azioni dimostrative e soprattutto cercare di mettere insieme dei modelli di business per il finanziamento di queste azioni. Questi sono i principali risultati che stiamo raggiungendo, sono diversi da paese a paese perché abbiamo paesi che sono rappresentati da economie molto diverse tra loro, però stiamo cercando di costruire, siamo già riusciti a costruire un grande network, un esteso network di esperti che lavorano su questi temi e che collaborano insieme costruendo un quadro per il Mediterraneo.